La miccia è da 5 minuti, basta una sigaretta, la accendi nella borsa e poi la lasci in un angolo Tu non devi preoccuparti, ti faremo tirar fuori, come ci hanno sempre tirati fuori Un'azione più è pericolosa e più ci fa godere Un'azione è meglio di una scopata Vuoi sapere quello che dicono di voi a sinistra? Te lo dico, dicono che siete delle marionette manovrate dall'altro Che i vostri capoccia prima vi mettono nei guai e poi vi mollano appena siete scoperti E che voi siete così fessi che li coprite, li nascondete Ma voi capite questo signorino, farebbe il cittadino modello fino al giamonto Per poi, finito di lavorare, oppo là, diventare un altro Un teppista, un bombardiere, un san babbelino Mi volete rovinare per una scemenza, maresciallo? Io ho messo la testa a posto Non sareste capace anche di convincere il direttore dell'unità che sei vittima di un soppruso, di un'ingiustizia? Scusi, scusi signora, sono del settimanale Sesso e Violenza, buongiorno E mi può concedere un'intervista? Sì, volontieri Che cosa ha comprato la nostra bella signora in questo meraviglioso negozio per impotenti? Un sesso di gomma, dal momento che non mi date il vostro Sta fermo, non toccare, lascia stare, piantala Ma scusa, siete tutti così voi di San Babila? La nostra società è troppo materialista E noi dobbiamo combatterla Dobbiamo avere tutti lo stesso ideale Devono tutti credere e obbedire, punto e basta Ma per ottenere questo ci vuole la violenza È vero che ti piace? Sì! È vero che ti piace così? Mi fai male! Mi fai male! Dimmi che ti piace! Dai, dai! È vero! No! Botte ne abbiamo prese tutti Dentro ci siamo stati tutti Visicamente, per temperamento Tu saresti uno dei loro Ma non provare a tradirci Perché finisci diritto al cimitero, hai capito? Ti sbagli E te lo dimostrerò Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due... Ah Oh